L'ex governatore della misericordia di isola di Capo Rizzuto, Leonardo Sacco, accusato di avere illecitamente gestito il centro d'accoglienza migranti di isola nel quale si sarebbero infiltrate le cosche locali, ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Assistito dagli avvocati Giancarlo Pittelli e Francesco Verri, Sacco ha chiesto il rito abbreviato condizionato all'esecuzione di Franco Maiolo, ex vice governatore della misericordia di isola Capo Rizzuto, di Luigi Asteriti, socio della confraternita e di Don Claudio, papa, padre di rosminiani italiani. Per i difensori inoltre è necessaria l'audizione degli amministratori giudiziari della misericordia nominati dalla procura e dal GIP, dalle cui relazioni si evince l'esistenza di importanti debiti della misericordia nei confronti dei fornitori, circostanza che smentirebbe la tesi delle fatture che l'associazione avrebbe gonfiato in modo da creare una provvista di denaro da versare alla criminalità organizzata. Le loro testimonianze nelle intenzioni dei difensori servono a dimostrare che Sacco faceva parte dell'associazione fin da bambino e che ne è divenuto il governatore come naturale evoluzione di quel rapporto e non perché sia stato messo a capo dalla misericordia e alla gestione del CARA, dalle cosche di isola, come sostiene il collaboratore di Giustizia Giglio. Intanto c'è da dire che sono numerose le richieste di rito abbreviato. Le udienze della fase preliminare del processo Johnny sono state calendarizzate dal GUP tedesco che ora dovrà decidere sulla richiesta dei difensori di Sacco all'udienza del prossimo 20 aprile. Non ha chiesto rito alternativo Don Edoardo Scordio, accusato con Sacco di essere artefice degli illeciti al CARA di Isola Caporizzuto.